Nell'ambito di Gromo si mostra c'è anche l'Associazione Culturale Video Art di Villa Donia con un progetto nuovo, di cosa si tratta? Si tratta di una mostra a mercato che è stata sollicitata proprio dall'organizzazione di questa rassegna culturale qui a Gromo per incentivare il collezionismo d'arte, quindi siamo partiti dall'idea di presentare questa Wunderkammer quindi uno spazio ricco di meraviglie che vengono dal periodo del 700-800, quindi abbiamo pitture di opere di artisti fiamminghi che si mischiano a progetti di arte contemporanea, a quadri, dipinti e sculture. Questa è una nuova iniziativa che serve proprio per sostenere l'attività di video art sul territorio e quindi parte dei proventi della mostra verranno dedicati appunto a sostenere l'attività e la sensibilizzazione sull'arte contemporanea che i video art portano avanti ormai da parecchi anni qui nel territorio dell'Alta Valseriana Bergamasca. Ricordiamo appunto questi progetti che state portando avanti sul nostro territorio. Adesso in questo periodo siamo impegnati con la proposizione, con le visite guidate al percorso itinerario artistico che è questo progetto nato in quest'anno e mezzo di pandemia che si sta rivelando uno strumento molto efficace per conoscere il territorio e per affrontarlo attraverso delle esperienze nuove che portano la creatività come elemento principale per percorrere il territorio, in particolare parliamo del territorio di Villa Donia dove è nato il percorso itinerario artistico. Però si sta espandendo, stiamo sviluppando un progetto che ci porterà il prossimo settembre a lavorare nel Comune di Onore dove avremo una mostra all'interno di quello che è l'ex sede della biblioteca in Piazza Pozzo a Onore e sarà un primo approccio dove video art porterà la propria progettualità quindi questo rapporto con la comunità rispetto alla conservazione della memoria, la valorizzazione delle tradizioni con l'intento sempre di incentivare e sostenere il passaggio intergenerazionale della cultura, dei saperi e dei sapori. A Gromo lo ricordiamo sarete fino al 29 agosto e la mostra è arricchita anche da una serie di eventi, iniziative anche attraverso la collaborazione con artisti locali. Sì, ci piace l'idea di creare delle sinergie rispetto a quelle che sono tutte le risorse del territorio infatti abbiamo realizzato una bella serata venerdì scorso con la storica dell'arte Laura Benzoni che ha introdotto alcune delle opere principali che abbiamo esposto in mostra accompagnate da una sonificazione realizzata da Gabriele Lattuada questo libro percussionista che abbiamo conosciuto di recente proprio a Clusona in una visita guidata all'orologio e quindi è stata una serata direi indimenticabile perché l'idea di legare appunto a questa sonificazione, questi suoni, la pittura, il racconto della pittura della storia dell'artista del periodo storico è stata un'esperienza immersiva molto interessante per questo ricordiamo che avremo ancora un appuntamento il 28 di agosto come finissage in cui avremo ospiti un gruppo di musicisti che sono qui di Gromo lei è una cantante contrabassista, si chiama Alia e faremo un aperitivo, diciamo una piccola festa finale e poi domenica 29 chiuderemo con il laboratorio di serigrafia del duo delle due alici di Big Fish e quindi invitiamo tutti a venire la domenica pomeriggio dopo le 3 e mezza portando delle magliette, degli oggetti, qualsiasi cosa vogliano serigrafare e avremo qui in laboratorio di serigrafia la serigrafia è una tecnica molto semplice e molto efficace e quindi coinvolgeremo i bambini, gli adulti in questa esperienza creativa condivisa in quello che è lo spirito di collaborazione e partecipazione di video art